L'ultima del 2021 deve dare la scossa al Teramo per rialzarsi dal doppio largo KO patito con Ancona e Reggiana. Al Bonolis c'è la Virtus Entella, altro osso duro, altra concorrente di chi vuol prendersi i migliori posti nella zona playoff. Guidi cambia, passando al 3-5-2. Non c'è Capitano Arrigoni. Si aggiunge anche l'assenza per scelta tecnica di Malotti. In avanti vanno Birligea e Bernardotto. Dall'altra parte Volpe non cambia modulo, ma interpreti, ritrovando dall'inizio Facundo Lescano in coppia offensiva con Mercai, arbitra Canci di Carrara. Parte bene il Diavolo con un'incursione di Bernardotto che si defila e cerca il pallo lontano, ma non trova il gol. Dall'altra parte si fa vivo lo stesso Lescano che dal limite scarica centralmente e manda un segnale a Peruchini, che salva. Passato il quarto d'ora è ancora Lampo ospite. Sugli sviluppi di un batti e ribatti seguente ad una punizione, Morosini aggancia in area e manca il bersaglio in diagonale. Minuto 25 la squadra di Chiavari colpisce. A centro campo Viero cerca Birligea che, ostacolato dall'arbitro, non aggancia. Contropiede ospite da Paolucci a Mercai che si ritrova sulla destra e crossa. Palla a Morosini che al volo infila e fa calare il gelo sul Bonolis. Tante, non poche, le proteste dei Biancorossi per l'accaduto a metà campo. Quinto gol segnato da Morosini, il decimo incassato dal Diavolo negli ultimi 115 minuti. Da qui il match si addormenta. Il termo cerca lo spazio per far male, ma sbatte continuamente contro il muro innalzato da Coppolaro e compagni. Zero occasioni fino al duplice fischio. Nel secondo tempo, il Diavolo parte forte e crea la più ghiotta chance al 54esimo, quando un corner dalla destra viene agguantato da Bellucci, che va di testa e sfiora il palo. Un minuto dopo e copia in colla, ancora il 19 ad incornare, mandando sul fondo. Scocca l'ora di gioco, Lentella si risveglia e graffia nuovamente. Capello, appena entrato, controlla sulla linea di fondo, crossa verso Mercai, colpo di testa. A superare Perrucchini, in spaccata va Piacentini per allontanare, ma l'assistente Pizzoni segnala il gol, vedendo la palla oltre la linea bianca. 2-0 che sa di pioggia sul bagnato per un Diavolo che stava crescendo e non poco. 37esimo, gol subito da Bellucci e compagni. Subito dopo, azione simile, Caric per Mercai che incorna, Piacentini salva. A 8 minuti dalla fine il Teramo può riaprirla. Mungo appoggia di sponda a Bernardotto, tiro piazzato sul palo lontano che esce di un nulla. Vince la Virtus Entella, lo fa col minimo sforzo, sfruttando due delle poche vere occasioni avute. Il Diavolo cade ancora e arriva a tre gare consecutive senza segnare. Altro dato allarmante nel cammino, sempre più difficile della truppa di guidi. Il 2021 si chiude con 19 punti e con una crisi finale che fa male. Ora due settimane di lavoro per recuperare altri infortunati e una forma persa dopo la vittoria di Pontedera.